Dopo l'accessità che abbiamo fatto con l'access kit del prof Alfredo Yandolo, possiamo fare l'accessità della formazione. Per l'accessità della formazione, ho amato questo smart endo-motor di Coqso, il C-Smart Pilot. Mi piace molto questo endo-motor perché c'è una funzione speciale per i casi difficili. Con questa funzione possiamo avere una rotazione e una rotazione anticlockwise according to the torque. E' quasi impossibile di fare l'accessità di questa funzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.